Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla E siamo tornati su Pokémon Diamante Lucente Siamo qui esattamente a Canalipoli ragazzi Perché oggi, primo aprile, è iniziata la primavera Diciamo ragazzi, siamo nel periodo di primavera Oggi essendo poi il primo di aprile è tempo di scherzi In pesce d'aprile Ma oggi ragazzi siamo qui perché C'è la possibilità di ottenere il nuovo Pokémon leggendario Che nella versione originale si otteneva con l'Action Replay Per attivare il suo evento Sto parlando di Darkrai ragazzi Il Pokémon Incubo Il Pokémon che divora i sogni E altri non è che Come tutte le altre Quindi che vi ho portato Andatevi a recuperare Cresselio e Shaming Che trovate qui nel canale Dovrete aver battuto la Lega E ottenuto il Pokédex nazionale Non è necessario che abbiate tutti i Pokémon della regione di Sinno Basterà registrarli tutti E poi con calma ve li catturate Così da avere sia i visti che i presi Ora Andate su Dono Segreto Tramite Internet Scheda Soci Riceviamo la scheda Soci Ed eccola qua Hai ricevuto il seguente strumento Scheda Soci per 1 E siamo qua Eccola qua Scheda Soci La scheda che permette di entrare nella locanda di Canalipoli L'ultimo timbro risale a 50 anni fa Allora No, è questa la casa Se non ricordo male Locanda del Marinaio Sosta ideale per i marinai irrequieti E ora Nei nostri soffici letti farai sogni d'oro Benvenuto Ti stavamo aspettando da tanto Tanto tempo Non resisti alla tentazione di coricarti sul letto Cioè ci stiamo teletrasportando Isola Luna Nuova Cioè ci hanno teletrasportato Ok Questo comunque è il sequestro di minore però Allora andiamo qua Andiamo qua Ed eccolo lì ragazzi Ed eccolo lì Darkrai Io però prima voglio mettere L'Axray Così da paralizzarle tutto E ora Cioè ci stavamo 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 Pokémon intorno a te Ecco perché ti sei rifugiato qui All'isola Luna Nuova Qui non c'è nessun altro Nessuno che possa sprofondare Nei tuoi incubi E se anche dovesse succedere L'isola Luna Piena Non è distante Catturato Ti sei svegliato Ecco perché non Ok Era tutto un sogno Ma in realtà Se noi andiamo Oh Hai dormito a lungo Cosa ti è successo E cosa stavi facendo Da queste parti Non si vede anima viva Da 50 anni Tu non farti domande caro Non farti domande Perché ora noi andremo A vedere il nostro PC Ed eccolo Darkrai Non era poi un sogno E abbiamo catturato Praticamente gran parte Dei Pokémon Adesso dovrò poi Mano a mano Far evolvere tutti ancora Ah che roba Vediamo un po' le mosse Di Darkrai Hypnosis Bicoattacco Ripicche Doppio team Sogni amari Ah l'abilità Ok Pensavo meglio Anche perché Questa è all'80 Questa è al 50 Vannaia Cioè Potevano farla Però Molto Bene ragazzi Io direi Che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Non so se vi porterò Altre guide di Pokémon Perché mi pare Siano finite Quelle dei remake A meno che non escano Altri DLC Di altri Pokémon Io come sempre Vi invito A lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao Belli